per le mie decorazioni ho scelto di usare la tecnologia che si chiama quilling quilling fanno con le piccole strisce di carta invece io ho deciso di usare la gomma così le decorazioni saranno più resistenti io uso le strisce di diversi altezze dopo vi faccio vedere grazie 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 usando le strisce di diversi altezze si può creare un disegno anche voluminoso non piatto per chi è pesante lavorare con le strisce si può creare un po più esperto o vuole spendere un po più tempo io offro un modo molto interessante vi faccio vedere grazie 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 penso che poi fare anche tu